Leadership 5G e nuove tecnologie, questa è stata la discussione che si è svolta con Luigi Gubitosi, amministratore delegato Telecom Italia in casa di Legans, un intervento faccia a faccia moderato e introdotto dal socio di Legans, Filippo Troisi. Perché è importante parlare di 5G e che opportunità di business può dare questa nuova tecnologia anche agli studi? Più che l'importanza di parlare di 5G, secondo me è importante parlare di leadership, parlare un po' della storia del paese attraverso una persona che ha rappresentato cariche molto importanti in diverse aree strategiche del paese stesso e poi vedere in quest'ottica il ruolo che hanno giocato le tecnologie e capire insieme l'importanza delle stesse per lo sviluppo dei diversi settori. Cosa significa leadership? Leadership significa a mio giudizio riuscire ad assumere ruoli importanti e prominenti avendo autorevolezza e senza essere autoritari. a mio giudizio riuscire ad assumere ruoli importanti e attraverso un'ottima